Sono Martina Taddeucci della Quarta Figurativo del Liceo Artistico Piero della Francesca. Il titolo dell'opera è Lasciami andare. Ho raffigurato una stanza a sfoglia con al centro una donna sdraiata, illuminata da un fascio di luce che proviene da una porta sul fondo. Due mani sbucano dal pavimento e cercano di afferrarla. Il quadro per me ha molteplici significati. Rappresenta il desiderio di voler uscire, scappare, liberarsi da una situazione difficile. Ho scelto di non mostrare il volto della donna per permettere a tutti di identificarvi, ci si. E il fiocco rosso nei capelli simboleggia la lotta contro la violenza sulle donne. Il mio intento era anche quello di infondere un messaggio di speranza attraverso alcuni simboli, come per esempio le mani. Le mani maschili si trovano in un piano diverso rispetto a quelle femminili e sono molto più in basso, e una di queste non riesce ad afferrarla. Quelle della donna, invece, si trovano più in alto e vengono colpite dalla luce, che per me simboleggia la speranza di un futuro migliore. Grazie a Martina per questa sua opera, per questo suo impegno, per questo sforzo. E con le parole di Martina e col suo bellissimo lavoro, voglio augurare a nome mio e a nome di tutto il convitto nazionale Scuole Annesse, auguri a tutte le donne per questa festa internazionale della donna, perché non ci siano più né schiavitù né sudditanze, e il mondo possa crescere insieme e in armonia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.